Qui in redazione abbiamo discusso molto su come dovrei affrontare gli ultimi minuti. Non importa dove viviate e quanti soldi abbiate, dobbiamo tutti affrontare lo stesso destino nello stesso momento. A Roma il Papa è pronto dal Vaticano per dare la sua benedizione finale. Alle 4.44 di domani mattina non ci saranno sopravvissuti. Il mondo finirà. Secondo te è vero? Sì che lo è. E se si sbagliano? Le strade delle città sembrano quelle di un giorno di vacanza. Sembrano tutti sereni almeno per ora. No! No! Lascialo in pace! Finisco la mia sigaretta e poi muoio. Il senso di condivisione con un altro è un senso di comunità. Quanto siete pesanti. Moriremo, chiaro? Siamo già tutti morti. On your knees and pray, on your knees and pray, on the last day. Ma che mi prende? No! La fine del mondo, la fine di un sogno. La voglio vedere. Andrime insieme verso quell'immessa luce. Perdona me. Io, te e tu hai me. È tutto ciò che ci resta. La fine del mondo, la fine di un sogno. Grazie.